Io devo disdettare un contratto di locazione al termine del primo quadriennio perché mia figlia intende andare a convivere in questa abitazione con il suo fidanzato. Non intendendomi di locazioni vorrei sapere come effettuare effettivamente questa disdetta, se devo fare una raccomandata, se posso inviare diversamente una PEC e in ogni caso se devo motivare il perché intendo dare questa disdetta. Grazie per la risposta. Ringrazio per la domanda. Il lettore si riferisce ad un contratto di locazione libera a norma dell'articolo 2,1 della legge 431 del 1998. Se così è, la disdetta può essere inviata sia con raccomandata, con ricevuta di ritorno, che con PEC, purché sia il locatore che il conduttore possiedano una casella di posta elettronica certificata. Nella lettera, ai fini della validità, deve essere indicata la motivazione per la quale il proprietario locatore intenda liberare i locali. In proposito occorre fare riferimento all'articolo 3,1 della legge 431 del 1998, che consente la disdetta al termine del primo quadriennio, dove il locatore intenda adibire l'immobile a primaria abitazione della propria figlia. Attenzione però, la lettera deve essere ricevuta dal conduttore almeno sei mesi prima della scadenza. Conseguentemente, soprattutto se non si dispone della PEC, è bene attivarsi per tempo.